Sentono il bisogno Alfonso Maria dei Liguori, 1696-1787, in La vera sposa di Gesù Cristo, dice Non basta l'orazione della mattina e della sera per tenere sempre l'anima unita a Dio. Perché? Commento Perché i mistici di ogni religione e i mistici laici sentono il bisogno di rivolgersi all'assoluto in ogni momento della giornata.